Immancabile, passionaccia questa. Questa è più bella, questa palla, dal vivo, c'è urania. Universa, questa è più bella, dal vivo, che è forse. Universa. Un ricetto, bellino, c'è un vernale, ma non è brutto. Camilo, buongiorno. Buongiorno, è Fabiani. Che fai, Rodrigo Paio? Rodrigo deve caloppare quest'anno. Questo è il cavallo del Satelli, il cavallo del Sidi Nuovo, Turok. Questo è anche, questo è Turok, scusate, di Murtas. Questo qui invece siamo, lo scrittore a me ne ricordo, a casa dei Sidi, però poi mi metto i nomi. Fa fai. Questa. Allora. Allora. Due piscera, un po' un altro pezzo.